carissimi colgo l'occasione per salutare e ringraziarli presidente dei mozzi e il direttore bonfanti per il questo invito che ho raccorto con grandissimo entusiasmo per partecipare a questa bella iniziativa che oggi stiamo portando avanti la questione della frequenza delle variazioni normative e regolamentari è complessa e coinvolge diversi interessi e prospettive io capisco perfettamente il vostro punto di vista spesso l'adattamento al cambiamento normativo può risultare eccessivamente oneroso in quanto comporta costi aggiuntivi in termini di conformità si tratta di un delicato trade off la cui responsabilità ricade su noi colegislatore da un lato abbiamo la ricerca della stabilità della certezza normativa ma anche una migliore comprensione e attuazione delle regole esistenti mentre dall'altro troviamo una innata necessità di tutelare i cittadini da eventuali fallimenti del mercato specialmente rispetto alle nuove tecnologie che nascono e si diffondono rapidamente generalmente le riforme vengono presentate quando nasce una necessità prendiamo ad esempio l'intelligenza artificiale moderna potremmo dire che Alan Turing con l'invenzione geniale della sua macchina abbia dato il via a un'altra epoca della storia della nostra umanità ma solo negli ultimi anni ne abbiamo assistito agli utilizzi più deprecabili come nel caso del riconoscimento facciale biometrico di massa per questo l'Unione Europea si è data da fare e in soli tre anni siamo riusciti ad adottare un regolamento che potesse regolare questo fenomeno era necessario per il bene per la stabilità della nostra società per evitare appunto che venisse manipolata e messa in difficoltà da usi distorsivi del potenziale tecnologico lo stesso ragionamento si può applicare ai servizi finanziari pensate alla digitalizzazione della finanza ad esempio al nuovo ruolo dei fin influencer ossia i finti o dubbi esperti che nei social network si surrogano al ruolo degli intermediari nella gestione dei risparmi nutro dei sani dubbi a riguardo anzi delle quasi negative certezze allo stesso tempo ripeto condivido pienamente le vostre preoccupazioni infatti a volte la normativa risulta essere troppo ingombrante per le nostre imprese e questo è un aspetto su cui dobbiamo migliorare su cui la Commissione Europea deve agire neanche totalmente consapevole già nello scorso mandato avevamo introdotto una caso iniziativa con il better law making e la better regulation proprio per cercare di calmerare queste tendenze così complicate e così talvolta complesse difficili da affrontare ci tengo a condividere con voi una piattaforma della Commissione Europea scarsamente pubblicizzata che si chiama fit for future istituita nell'ambito della better regulation appunto in cui vi è uno spazio chiamato di la tua uno spazio in cui potete esprimere le vostre considerazioni su come rendere più efficienti e meglio calibrate le leggi leggi gli atti normativi appunto dell'Unione Europea questa è una domanda lecita e molto interessante in realtà le proposte legislative della Commissione Europea già includono solitamente una valutazione dell'impatto nonché delle considerazioni specifiche sulle piccole e medie imprese il tutto nel pieno rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità infatti seguendo bene i principi della better regulation come anticipato poco fa esiste il cosiddetto test PMI che analizza i possibili effetti delle proposte legislative dell'Unione Europea sulle nostre piccole e medie imprese europee quest'ultimo valutando i costi e benefici delle diverse opzioni di policy contribuisce ad attuare il principio del think small pensare in piccolo migliorando così il contesto imprenditoriale ed evitando appunto che il nostro intervento come legislatori sia troppo focalizzato esclusivamente sugli esigenze sulle realtà che costano appunto la dimensione dei grandi nella pratica il test delle PMI si svolge attraverso una valutazione preliminare delle imprese che potrebbero essere interessate una consultazione poi delle piccole e medie imprese delle organizzazioni che le rappresentano come SNA su tutte ovviamente e la redizione di un'analisi costi benefici e l'eventuale introduzione di misure di mitigazione se sono necessarie per fare un esempio nel caso della retail investment strategy pacchetto molto importante per la vostra associazione a pagina 61 dell'impact assessment della commissione troverete un paragrafo di più pagine dedicato proprio alle piccole e medie imprese nonché l'intero annesso 12 sul sopraccitato test PMI nel corso del legislativo la commissione può produrre altre valutazioni di impatto oltre a quelle iniziali in quanto la commissione parlamentare responsabile del dossier può chiedere all'amministrazione del parlamento di dare ovviamente anche una propria valutazione di impatto quindi possiamo ulteriormente arricchire le nostre riflessioni anche con dati ancora più approfonditi e ancora più puntuali ed è proprio qui che rientrano in gioco le realtà come la vostra perché qualora fossero sfuggite nei calcoli delle varie analisi di impatto importanti considerazioni legate ai mercati nazionali voi potete giocare un ruolo assolutamente centrale e fondamentale nel contattare i deputati che si donano nella commissione competente e nel pungolarli a fare richiesta in questo senso per me è sacrosanto il dovere di noi eurodeputati di ascoltare le vostre preoccupazioni le istanze e ovviamente le sensibilità delle realtà produttive perché senza un dibattito pieno informato viene meno l'essenza della democrazia è un principio che per me è intangibile un proprio una stella forale potete sempre contare sul mio impegno in questo senso a mio avviso in generale la priorità principale quella di creare il miglior contesto possibile per lo sviluppo imprenditoriale che sia competitivo che premi il migliore che porti alla creazione di qui campioni europei oggi assenti nella competizione contro i giganti americani e cinesi per fare ciò condivido le vostre osservazioni è necessario snellire l'onore amministrativo rendendolo più efficiente così appunto deve essere il nostro quadro normativo con un occhio sempre di riguardo alla necessità di calibrare tutto a misura di una delle nostre piccole e medie imprese dobbiamo assicurarci che venga rispettato il principio della parità di condizioni il cosiddetto level time field sia internamente all'unione sia esternamente lì talvolta si annida la difficoltà maggiore perché se da un lato dobbiamo rendere più semplice la vita le piccole e medie imprese che siano realmente in grado di rispettare le regole dall'altro dobbiamo far sì che queste siano rispettate da tutti gli attori che non ci siano vincitori e sconfitti che tutti partano dallo stesso punto di partenza prioritario sarà inoltre avvicinare e incentivare sempre più persone a investire i propri risparmi senza mettere da parte però la tutela dei consumatori i quali vivendo in un mondo sempre più digitale interconnesso sono esposti quotidianamente a molte minacce è fondamentale adottare una visione strategica dell'unione specialmente in relazione alla competizione con gli altri attori finanziari mondiali due degli aspetti che più mi preoccupano infatti sono i dati relativi alla comparazione degli investimenti retail tra l'unione europea e gli stati uniti e la nostra scarsissima performance in termini di educazione finanziaria è veramente preoccupante anche la percentuale di risparmio europeo fermo in banca sotto forma di depositi al 2019 infatti nell'unione europea il 31,4 per cento delle attività finanziarie delle famiglie erano depositi contro il 12,6 per cento degli stati uniti inoltre il 70 per cento dei cittadini dell'unione europea dichiara di non aver mai investito chi per paura dei rischi o perché lo considera semplicemente troppo complesso noi non possiamo veramente permettercelo le risorse pubbliche non sono illimitate dobbiamo sbloccare il potenziale inespresso del risparmio privato e come sapete appunto l'elevata quantità di risparmio detenuti in depositi bancari e conti di risparmio tradizionali riduce le opzioni di finanziamento a lungo termine per le imprese e i potenziali rendimenti anche a lungo termine per i risparmiatori dell'unione europea stessa. Questi fondi inutilizzati potrebbero giocare un ruolo essenziale nel finanziare la crescita e l'innovazione delle piccole e medie imprese che non sono spesso in possesso delle risorse che sono ovviamente consentite e accessibili ai grandi gruppi. Concludendo come ho iniziato sia la riduzione dell'onore amministrativo ma serve anche un cambiamento sistemico strategico per favorire questo accesso e questi investimenti quanto mai indispensabili. Prima di rispondere alla domanda bisogna contestualizzare questa riforma. Secondo la Commissione europea l'obiettivo della Retail Investment Strategy è quello di mettere gli investitori al dettaglio cioè gli investitori consumatori in condizioni di prendere decisioni di investimento in linea con le loro esigenze e preferenze garantendo loro un trattamento equo e la giusta tutela. Obiettivo ampiamente condiviso ma da ottenere con degli interventi mirati e precisi a mio avviso senza ingolfare eccessivamente l'impianto normativo. Proprio per questo anche tramite gli emendamenti che ho presentato di persona abbiamo lavorato molto sugli aspetti tecnici più politicizzati ossia il value for money e il best interest of the client raddrizzando la direzione della proposta iniziale. Riguardo il value for money noi vedevamo i cosiddetti benchmarks solo come utili strumenti di supervisione a livello nazionale non da far utilizzare al consumatore come proposto inizialmente. Ci preoccupava infatti la proposta di imporre ai produttori l'obbligo di approvare solo i prodotti in cui il pricing non si discostasse da un benchmark pertinente sviluppato dall'autorità di vigilanza europea senza quindi considerare i benefici totali dell'investimento. La mia collega relatrice ha ottenuto un ottimo risultato negoziale proseguendo nella direzione giusta evitando così eventuali confusioni da parte dell'investitore. Per quanto riguarda il migliore interesse del cliente per noi era inaccettabile il cambio di paradigma proposto imponendo agli intermediari di raccomandare esclusivamente gli strumenti finanziari più efficienti in termini di costi. Se non avessimo agito tempestivamente avrebbe preso il sopravvento un approccio quantitativo basato esclusivamente sulla dimensione dei costi a scapito quindi della qualità della consulenza di investimento che prende in considerazione diversi parametri qualitativi ad esempio la strategia di investimento, le caratteristiche di sostenibilità per offrire strumenti finanziari che possano soddisfare al meglio il profilo del cliente. E chi può capire meglio questo concetto se non proprio voi agenti assicuratori? Infine sugli incentivi piuttosto che introdurre un divieto sebbene parziale abbiamo inserito una clausola di revisione a partire da 5 anni dall'entrata in vigore appunto delle norme di livello di secondo livello. Motivo? Prima vogliamo vedere se le nuove regole del value for money avranno veramente un impatto sui comportamenti degli investitori sul mercato e quindi sulla base di queste costruzioni poi avremo un modo eventualmente di intervenire e di riconsiderare quello che è stato finora disposto. Questa è una riforma che nel mio gruppo politico ho accolto con grande piacere in quanto tante volte abbiamo assistito a dannosi conflitti di competenza e perdite di tempo francamente inspiegabili e inaccettabili. Quello che avete letto è più di un rumor. Effettivamente stiamo cambiando le nostre regole interne per la prossima legislatura ma non c'è stato finora nessun accordo sulla modifica della composizione delle commissioni parlamentari. Ci sono tuttavia alcune novità interessanti di cui voglio parlare. Il gruppo di lavoro Parlamento 2024 è stato istituito dalla conferenza dei presidenti il 18 gennaio del 2023 con il mandato di sviluppare proposte di riforma concrete e attuabili per rafforzare i metodi di lavoro interni del Parlamento nonché il suo ruolo istituzionale e la sua capacità di azione. Una volta individuato i problemi delle cinque aree definite nel mandato, ossia il processo legislativo, le attività di controllo, le funzioni di bilancio e i poteri di discarico, la plenaria e le relazioni esterne è stato presentato poi un pacchetto di proposte di riforma che è stato approvato il 7 dicembre scorso. L'obiettivo è quello di attuare delle riforme proposte prima delle elezioni europee del 2024 in modo da essere in grado di sostenere il nuovo Parlamento fin dall'inizio della prossima legislatura. Cosa abbiamo ottenuto nella pratica? Per quanto riguarda il processo legislativo una migliore cooperazione tra le commissioni parlamentari faciliterà senz'altro la gestione dei dossier legislativi. Come ben sappiamo purtroppo la frammentazione delle responsabilità e delle competenze legislative nonché le procedure farraginose e dispendiose in termini di risorse all'interno del Parlamento complicano non poco e inutilmente oserei dire la gestione dei fascicoli legislativi ostacolando l'effettivo lavoro parlamentare talvolta indebolendo la posizione negoziale del Parlamento nei confronti del Consiglio della Commissione. Per quanto riguarda il ruolo di controllo del Parlamento europeo un nuovo formato di audizioni speciali consentirà al nostro Parlamento di affrontare in modo tempestivo e approfondito questioni di grande importanza politica. Nei rapporti con la Commissione il processo di audizione dei commissari sarà semplificato e sarà introdotto una maggiore flessibilità mentre le interrogazioni orali potrebbero essere svolte anche di fronte all'intero collegio dei commissari o con diversi vicepresidenti della Commissione per coprire ampie aree. Inoltre un nuovo formato di dibattito dalla dichiarazione del Parlamento da concludere con una risoluzione che consentirebbe al Parlamento stesso, alla nostra Eurocamera, di esprimere la propria posizione e definire le priorità non solo come relazione alle osservazioni introduttive del Consiglio e della Commissione, ma anche appunto sottolineando il ruolo del Parlamento nella definizione dell'agenda politica stessa. Vedo difficile che si riesca a ottenere entro la plenaria di aprile, ultimo puntamento disponibile, un'eventuale modifica della composizione delle commissioni, ma senz'altro vi posso confermare che il Regno Europe, il mio gruppo, aveva spinto molto sulla separazione della sottocommissione sede rispetto alla Commissione Affari Esteri, AFET, la sede della sottocommissione di sicurezza e difesa, proprio per dare un ruolo di rilievo alla difesa europea, che sarà, con tutto il comparto sicurezza, uno ovviamente dei temi principali, una delle chiavi di volta di questi prossimi cinque anni. Ringrazio nuovamente il Presidente De Mozzi e il Direttore Bonfanti per il vostro invito, che ho raccolto veramente con gioia, con grandissimo entusiasmo, saluto carosamente tutta la comunità del Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione, con la speranza di vederci presto fisicamente e di poter continuare insieme questo grande impegno per valorizzare una grande eccellenza italiana, qual è appunto SNA. Un caro saluto, buon lavoro e buona discussione.